Come si spiega l'abnorme proliferazione di zanzare di quest'anno? Oggi abbiamo qui con noi il signor Zanzaromane, che ha scritto un libro su questo fenomeno. La ringrazio per l'invito. Allora, come affermo nelle conclusioni, si tratta di una varietà di zanzare del tutto nuova, di cui non so nulla neanche io. Se ne vada! Brutta stronza! Oh! Cos'è quella roba? Sono... sono... zanzare! Ehi tu! Oh? Mettiti al riparo! Quello sciame è dotato di volontà propria. Se ti vedono, ti saranno subito addosso. Dici sul serio? Ma è terribile! Dai, scappiamo! E qui potrò spazzarti via senza trattenermi. Aspetta, qualcuno c'era invece? Ma no! Tu mi hai aiutato e sei stato grande. Dove l'hai preso? Il tuo insetticida è una vera cannonata. Buona questa, eh? Oh, te la spiego. Tu hai un cannone nel braccio, dico bene?